Ciao, sono Sandra. Benvenuti in questa nuova puntata di Scopriamo l'Italia assieme. Con Viaggiando Italia. In questa puntata ti consigliamo un itinerario che potrai compiere anche in un solo giorno e che si svolge tra Toscana e Lazio. Durante questa gita potrai ammirare le meravigliose terme di Saturnia, tra le più famose e visitate al mondo. L'interessante oasi naturale sul mare di Orbetello, gestita dal WWF. Tuscania, un borgo storico caratteristico del periodo etrusco. Segui il link in descrizione per scoprire di più. Leggi, viaggia e sii felice con ViaggiandoItalia.it A presto!